essere di marco iemmi di varese sosseggia piano e poi respira forte riecheggia il palpitare della vita ascolta intimamente i sentimenti il ritmico fluire dell'essenza l'ossigeno che nutre i tuoi tessuti il morbido intrecciarsi dei pensieri osserva il mondo con nuova visione approccia con giudizio il cambiamento mantieni gli invisibili nemici lontani dalla sfera personale proteggi il bene e poi contrasta il male io credo che andrà bene se sto a casa grazie a tutti grazie a tutti